Il nostro simbolo d'amore è un verde cuore Ischia è una poesia, amala con noi Se tu vuoi legger la sua storia, ti sorprenderai Un giro tondo di emozioni, vivi le con noi Grina, grina, mare, sole e amore Grina, grina, siamo qui per te Grina, grina, mare, sole e amore Grina, grina, vivi le con noi Grina, grina, vita, luce e cuore Grina, grina, siamo qui per te Grina, grina, vita, luce e cuore Grina, grina, Ischia è qui per te E il tuo cuore verde basse più che mai Alza le tue mani, canta insieme a noi Noi siamo felici perché siamo amici Prendi l'emozione e vivile con noi Grina, grina, mare, sole e amore Grina, grina, siamo qui per te Grina, grina, mare, sole e amore Grina, 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 Ischia è qui per te Facciamo un po' di musica? Quindi cosa c'è? Un po' di musica? Standaresi? Guido Argoneno? Guido Argoneno? Perché no? Autopresentazione, brani, Elisabetta Capuzzo L'ospetto di Narciso è solo per Gioramento del basso Quindi ci vediamo Siete i padroni di 20 minuti Quindi fate quello che vuoi fare Avete 20 minuti più Va bene, allora Cominciamo Senza invasi più di tanto tempo Noi siamo di Perugia Io e Natalia Benedetti Però ad Ischia abbiamo collaborato Già fin dall'84-85 con il maestro Sena Quando ancora il nostro Bruno Mancini Non era nemmeno nato In quegli anni lì Quindi poi abbiamo scritto un inno particolare Che è risultato l'inno di questo premio 8 milioni Noi siamo un duo che esegue musica classica Musica anche particolare Come ascolterete da questi 20 minuti E particolare anche perché è attinente A un repertorio denominato Musica contemporanea Almeno il primo brano di questi Abbiamo l'onore di avere con noi La compositrice Ve la presento Che è Elisabetta Russo La nostra bella signora Celeste E' la prima Elisabetta Capurzo Che ha scritto questo brano Veramente particolare Lo specchio di Narciso Immaginatevi un carinetto basso Che suona i suoi suoni in modo classico E lei lo trasforma Quasi ponendosi di fronte allo specchio E dicendo Ma io posso suonare solo note classiche E posso fare dell'altro Ascoltate come la nostra Elisabetta Capurzo Si inventa uno strumento Veramente inusuale e contemporanea Lo specchio di Narciso Di Elisabetta Capurzo Ilisabetta Capurzo Un'altra Questa è la mia Inscritura Capurzo E la mia Inscritura Capurzo Con Signore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.